Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio e con loro le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome. Vittime del dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. La nostra associazione riunisce più di 500 famiglie su tutto il territorio nazionale di appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate, magistratura, colpiti dalla criminalità in genere. Mio padre era un maresciallo dei carabinieri, ucciso a opera nell'80 da un ergassolano in permesso premio. La nostra associazione si batte per onorare la memoria dei nostri caduti e sottolineare il sacrificio dei nostri invalidi, ma anche per sottolineare come sia necessario nella nostra società portare avanti la cultura della legalità. Grazie. 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 Buongiorno, sono Dario Bonsignorio di Uni, l'ente italiano di normazione. Oggi siamo qui per parlare di sicurezza nei parchi gioco e lo facciamo con Clara Miramonti, funzionario tecnico Uni. Buongiorno Clara. Buongiorno. Prima di iniziare vorrei che tu ricordassi il ruolo di Uni. Uni è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che da circa 100 anni studia e pubblica le norme Uni che sono documenti ad applicazione volontaria elaborati da circa 6.000 esperti che si incontrano per condividere esperienze e conoscenze, li inglobano in documenti che ci spiegano come fare bene le cose. Le norme Uni sono un vero e proprio concentrato di conoscenza che aiutano i produttori a offrire prodotti e servizi migliori e gli utilizzatori a scegliere meglio. Veniamo all'argomento di oggi, la sicurezza nei parchi gioco. In Italia sono migliaia di parchi pubblici attrezzati per il divertimento dei bambini. Quali caratteristiche devono avere quelle attrezzature installate in questi parchi per essere considerate sicuri? In questo campo la norma UNI-N 1176 stabilisce i requisiti di sicurezza che le attrezzature da gioco devono avere. Attrezzature da gioco quali miscivoli, giostre, altalene. La norma prende in considerazione molteplici aspetti. Dalle protezioni contro le cadute, fissando l'altezza di Corrimano a 60-85 cm. Le finiture dell'attrezzatura da gioco devono avere saldature levigate, bulloni ricoperti, non devono avere parti sporgenti o taglienti. E le protezioni contro l'intrappolamento sia di parti del corpo che degli abiti. Inoltre devono essere progettate da permettere agli adulti di assistere i bambini da vicino in modo da intervenire in caso di necessità. Ma poi, come dicevamo, nel tempo le attrezzature possono anche deteriorarsi se non vengono sottoposte a una costante e corretta manutenzione? Assolutamente sì. In caso di gestione la UNI-N 1176 fa una differenza tra ispezione e manutenzione. L'ispezione è proprio il momento di verifica, di controllo generale dell'attrezzatura, della sicurezza dell'attrezzatura e della parte circostante ad essa. La manutenzione si suddivide in ordinaria e correttiva. La manutenzione ordinaria va a verificare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura da un punto di vista di riverniciatura della superficie, posizionamento corretto dei giunti, dei fissaggi, mentre la manutenzione correttiva è volta proprio alla correzione di eventuali difetti, di manumessioni sopraggiunte negli anni, in modo da riportare lo stato di sicurezza dell'attrezzatura alla fase iniziale, quando l'attrezzatura era nuova. Trattandosi di bambini, qualche capitombolo può essere sempre messo nel conto. Quindi cosa prevedono le norme UNI in caso di caduta accidentale? Assolutamente sì, abbiamo una norma dedicata alla UNIEN 1177 che ci guida alla corretta scelta della pavimentazione per smorzare eventuali cadute accidentali. Nel caso di aree da gioco poco utilizzate, ci guida una scelta di pavimentazione costituita da corteccia, ghiaietto stondato. Nel caso di aree da gioco molto utilizzate, per esempio adiacenti alle scuole, ci fa scegliere una pavimentazione di tipo di gomma o di prato sintetico. E l'altezza, lo strato di pavimentazione dipende, lo spessore dipende dall'altezza dell'attrezzatura da gioco. Anche in questo caso la manutenzione gioca un ruolo fondamentale. Un'ultima domanda, quale consiglio possiamo dare a genitori e nonni che accompagnano i bimbi al parco giochi? Innanzitutto verificare che sull'attrezzatura da gioco vi sia una targhetta che riporta il numero della norma UNIN 1176, poi toccare con mano l'attrezzatura, verificare che non sia arrugginita, controllare l'integrità della pavimentazione circostante e a questo punto buon divertimento ai bimbi. Bene, ricordo che tutte le informazioni sull'attività di UNI si possono trovare sul nostro sito internet all'indirizzo www.uni.com Ringrazio ancora Clara Miramonti, funzionario tecnico UNI e saluto chi ci sta ascoltando. Buona giornata a tutti. Buongiorno, Silvio Olivero, Presidente regionale a Milonglus, Piemonte. Giornata internazionale della donna 2019. Questa volta vogliamo infatti parlare di quest'ambito lavorativo, un lavoro invisibile e poco riconosciuto come tale a livello sociale, quello appunto delle casalinghe, anche se sarebbe più corretto definirle manager dell'impresa familiare. perché la complessità dei compiti e degli impegni che richiede la gestione delle esigenze familiari diventa oggetto di accesa discussione solo quando le donne svolgono un'attività lavorativa anche fuori casa. Legge di bilancio per il 2019 rivolta agli infortuni in ambito domestico ha portato delle modifiche alla normativa che nel 1999 aveva istituito l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Dunque, proprio per ricordare questa importante conquista per tutta la società, a vent'anni dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione delle casalinghe, abbiamo voluto presentare un focus su questo mestiere che è tra i più rischiosi e di invitare tutte le destinatarie di questa legge a sentirsi protagonisti di un'attivazione più che meritata. Sono oltre 7 milioni le casalinghe presenti in Italia che sanno quanto sia faticoso ma al tempo stesso determinante per l'economia familiare. Prendersi cura della casa, della famiglia, dei figli. Ma come dicevamo, oltre ad essere più difficile, quello della casalinga è un lavoro molto pericoloso con tassi di incidenza infortunistica media superiore a quelli delle lavoratrici normali. Tra le donne sono circa 600.000 le casalinghe coinvolte in un incidente domestico. Gli ambienti, la cucina, il bagno, eccetera. Lesioni, quella più diffusa e la frattura. Dopo le ustioni e infine le ferite da taglio. Le nuove disposizioni hanno ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano in modo abituale ed esclusivo. Vale a dire non svolgono altre attività per le quale sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale. L'ampliamento della tutela introdotta dalla legge riguarda innanzitutto l'abbassamento del grado di inabilità permanente necessaria per la costituzione della rendita che passa dal 27 al 16%. Inoltre qualora l'inabilità permanente accertata sia compreso tra il 6 e il 15% viene corrisposta una tantum di importo pari a Euro 300 rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente. L'importo del premio assicurativo in relazione all'ampliamento delle prestazioni è fissato dalla legge in Euro 24 annui. Come Amil diciamo che sarebbe estremamente importante poter estendere la tutela assicurativa per il lavoro domestico anche alle donne che siano già assicurate presso asse forme di tutela sociale obbligatoria. L'attuale negazione di questa possibilità infatti non tiene conto della duplice dimensione professionale della donna che assicurata per l'attività lavorativa svolta al di fuori del contesto domestico rimane priva di tutele per gli infortuni legati alla gestione della casa e della famiglia. Arrivederci e grazie. La CNA di Torino ha commissionato al professor Marini una ricerca sul tema della digitalizzazione nelle micro e piccole imprese soprattutto quelle collegate al mondo dell'artigianato. Dalla ricerca emergono una serie di dati che oggi impongono alla CNA di sviluppare diverse azioni per cercare di portare le imprese all'interno del mondo dell'innovazione soprattutto quella collegata a impresa 4.0 e agli sviluppi della digitalizzazione complessiva nei processi di produzione che riguardano prodotti e riguardano anche la capacità delle imprese di adattarsi in modo diverso anche per sviluppare alternative al cosiddetto commercio tradizionale. La ricerca mette in evidenza dati che già in parte conoscevamo ma che sono preoccupanti e che richiedono interventi particolari per quel che riguarda le nostre istituzioni a partire dalla regione che ha competenze primarie in materia di artigianato. La maggioranza delle nostre imprese sono state circa 900 quelle intervistate portano in evidenza il fatto che la maggioranza di queste oltre il 50% fatica a seguire i processi di innovazione. Anche nelle imprese più strutturate quelle che hanno oltre 10 dipendenti seppur più attente ai processi innovativi e alla digitalizzazione riscontrano comunque delle difficoltà. Emerge un altro elemento secondo noi importante che la maggioranza delle aziende oggi segue i processi di innovazione partendo da due driver i due driver sono i venditori di macchinari e il secondo driver è la CNA. Negli ultimi posti ritroviamo l'università e il politecnico. A partire da questo noi abbiamo chiesto e abbiamo avuto anche un'iniziativa alla quale ha partecipato il rettore del politecnico di Torino abbiamo rapporti con l'università cogliendo appunto dal professor Saracco quella disponibilità ad una maggiore attenzione nei confronti della piccolissima impresa e della microimpresa e con loro vogliamo avviare un percorso di accompagnamento delle imprese a partire dalle possibilità di CNA ad avere una presenza diretta in collaborazione con Politecnico e Università nel futuro Competence Center che si dovrà costituire a Torino anzi già costituito e in futuro su quella che sarà l'attività che svilupperà il Manufacturing Center su questi due elementi Manufacturing e Competence Center ci sono interventi già previsti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e avranno ulteriori incentivi e risorse a partire dalla individuazione di Torino come area di crisi complessa Il ritardo delle piccole imprese in fatto di innovazione in particolare di innovazione digitale è un dato significativo e voglio soltanto ricordarlo attraverso un'immagine che credo essere particolarmente significativa sempre di più i negozi reali quelli che si affacciano sulle vie delle nostre città si svuotano ma i negozi virtuali sono sempre più affollati Il commercio online rappresenta in Italia che è paese fanalino di coda a livello europeo ben 27 miliardi di euro Ciononostante come dire nonostante il grave ritardo dell'Italia abbiamo avuto lo scorso anno un incremento del 20% delle vendite di capi d'abbigliamento online del 34% di articoli del comparto food e del 53% di articoli legati al mondo della casa e dell'arredo tutti i settori nei quali il made in Italy ha tante cose da dire che sono settori tipicamente dove le imprese artigiane hanno un ruolo e una presenza il rischio concreto è che questo ricco mercato rimanga nelle mani di poche piattaforme online e di pochi brand internazionali ricordo ancora che il 44% degli utenti internet fa ormai acquisti online e che la quota sale addirittura al 57% nel nord Italia e al 60% tra gli under 34 va da sé che per sostenere il made in Italy l'unica strada possibile è quella di percorrere le nuove autostrade digitali nelle quali ancora le piccole imprese fanno fatica a muoversi i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione a Grazie per la visione!